Il titolo è ripreso da un disco dei peggio punks, un gruppo di Alessandria che uscirono con questo disco nel 1983. Si adattava benissimo alla situazione scolana, una città quieta, la ricordo così negli anni 80, la ricordo così negli anni 90 e così negli anni del nuovo millennio, probabilmente una città che resterà così ineterno. Il punk si adattava benissimo a una città come Astor, perché l'assunto dell'noficio, un assunto uniclista basato sull'autodistruzione, sulla possibilità di una non risposta in assoluto, si adattava benissimo a una città che era nata, ed è nata per annullarsi il pinzino. La risposta che noi abbiamo cercato di dare non è stata quella del no future, è stata quella che è venuta poi negli anni a seguire, basata invece sulla costruzione, non più sulla distruzione, ma sulla necessità di dare una risposta viva, possibile, e quindi un'impronta sicuramente politicizzata, e quindi un assunto diverso, a base di Taftense si è evoluta, è diventata qualcosa di diverso, è diventata il tentativo di dare una risposta, e quindi di costruire qualcosa di possibile, qualcosa che in definitiva non è mai arrivato. Grazie. Grazie. Grazie.